In queste conferenze il valore è un valore non solo didattico ma un valore culturale molto profondo perché grazie al professor Natali noi possiamo avere a Montevarchi tre non solo grandi storici dell'arte a livello mondiale, sia Natali, Farinella e Baldinotti ma abbiamo anche delle tematiche importantissime perché grazie alla professoressa dirigente Chimentelli riusciamo ad affrontare sia con i ragazzi sia con i cittadini ma anche con i professori queste lezioni magistrali che affronteranno da una parte una grande lezione sul Rosso Fiorentino e i Cristi dei Posti poi la stupenda lezione del professor Farinella di Normale di Pisa che parlerà della Madonna Sistina di Raffaello e poi una lettura di un ciclo importantissimo che è della scuola grande di San Rocco del Tintoretto